Musica Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con calcio e caffè. Giovedì 25 febbraio prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo al prossimo incontro di campionato in casa contro il Bologna ricordiamo domenica alle ore 12.30 prosegue con un grave intoppo il Palermo rischia di perdere Franco Vasquez per la partita di domenica una perdita che sarebbe importantissima per i rosa soprattutto se collegata a quelle di Sorrentino e di Lazare vedremo questo e tanto altro all'interno dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola partiamo subito dalle prime pagine di oggi, prime pagine dedicate ovviamente al calcio internazionale ieri ultima giornata degli ottavi di Champions League per la settimana nessuna italiana in campo, la Juventus ricordiamo è scesa in campo l'altro ieri in casa contro il Bayern Monaco un pareggio per 2-2 dunque anche calcio estero oltre alle novità sul calcio italiano come vediamo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport intervende Sir Toir, ci pensa il presidente indonesiano cerca soci in Cina potrebbe anche cedere tutto, troppe le perdite per il club nerazzurro la Champions League si allontana e questo aggrava la situazione in ottica fair play finanziario dunque Inter che potrebbe cambiare proprietario, che potrebbe attraversare un periodo di ridimensionamento qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League poi oggi Europa League, Scarri scuote Higuain, decidi tu se giocare e fai vedere chi sei ricordiamo oggi Napoli, Villarreal dunque azzurri impegnati nella sfida casalinga contro gli spagnoli all'andata hanno vinto i gialli per 1-0 in campo per l'Europa League anche altre due italiane, Fiorentina con Bernardeschi corteggiato dagli inglesi che cerca uno sgambetto a un'altra inglese, il Tottenham, dopo l'1-1 del Franchi e la Lazio contro il Galatasaray, Pioli punta su Matri che all'Olimpico si scatena dunque bomber di Coppa casalingo per la Lazio che spera di superare il turno contro i turchi puntando proprio sull'Ezio Juventus e sui suoi gol la Champions di ieri, la tripletta a Kiev, il City è praticamente già avanti 3-1 in casa della Dinamo, frena l'Atletico bloccato sullo 0-0 dal PSV a Eindhoven in Olanda per quanto riguarda le altre italiane, la Juventus dopo il 2-2 col Bayern Monaco ci crede adesso gruppo, grinta e recuperi sono i tre punti chiave dei bianconeri per la sfida di ritorno dell'Allianz Arena contro il Bayern e questo per quanto riguarda la prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi passiamo ora al Corriere dello Sport, all'edizione di Sicilia e Calabria del Corriere dello Sport che apre sempre con l'Inter con la possibilità di una cessione del pacchetto azionario di proprietà di Eric Toir leggiamo il progetto Fatica a Decollare due le ipotesi cedere il club oppure rilanciare con nuovi soci, di sicuro Toir sta cercando nuova linfa per un club apparentemente in rosso, anzi no apparentemente, sicuramente in rosso stando ai dati del bilancio un vivio legato anche ai risultati sul campo non dovesse arrivare alla Champions League per l'Inter, sarebbe dura poter proseguire questo progetto per le altre italiane Juventus invece una pioggia d'oro e il Bayern nel mirino l'ultima semestrale un'utile a 30 milioni per i bianconeri che continuano a macinare record su record sul piano economico, poi in campo oggi le tre italiane di Europa League Sarri e Guain decidi tu come già abbiamo letto Sousa per la Fiorentina pronti alla battaglia l'andata ricordiamo che il Tottenham finì 1-1 in casa di Viola e Pioli-Lazio ti giochi tutto, Bianco Celesti che ricordiamo passerebbe il turno anche con lo 0-0 per quanto riguarda le altre big Berlusconi se Balotelli cresce, resta al Milan e poi passiamo al Palermo come di consueto il Palermo chiama i tifosi domenica tutti allo stadio e Zamparini scarica Girardino, non va bene per noi ha dichiarato il presidente, non va bene per questa piazza lo vedremo più tardi ovviamente riferendosi al fatto che al Palermo non arrivano palloni a centro area dunque Girardino non riesce ad essere pericoloso come dovrebbe leggiamo anche i risultati della serata di ieri Dinamo Kiev-Manchester City 1-3 PSV-Atletico Madrid 0-0 entrambe in ritorno il 15 marzo la sfida di ritorno mentre per l'Europa League oggi sedicesimi Lazio-Cadatta Sarai apre il programma delle italiane si gioca alle 19 dopo l'andata terminata 1-1 Napoli-Viglia-Real e Tottenham-Fiorentina chiudono il programma per le tre squadre della Serie A impegnate nella seconda competizione europea entrambe in campo alle 21.05 domani il sorteggio degli ottavi che riguarderà molto indirettamente anche il Palermo perché se il Napoli dovesse passare il turno la sfida tra Palermo e Napoli in programma il 13 marzo dovrebbe essere posticipata di lunedì per impegni legati al calendario europeo e italiano dei partenopei dunque Palermo che guarda con un minimo di attenzione anche alla sfida di Europa League di questa sera e al sorteggio dei calendari di Europa League di domani e con questo chiudiamo con le prime pagine passiamo all'interno dei quotidiani sportivi di oggi passiamo direttamente alla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia e Calabria che apre con un classico possiamo così dire Palermo con il Bologna e mezzogiorno di fuoco terza partita giocata alle 12.30 nella storia tra il rosso-blu e il rosa-nero tre anni fa finì 1-1 con la papera di Sorrentino un errore che costò la retrocessione praticamente in Serie B della squadra allenata allora da Giuseppe Sannino all'andata si giocò alle 12.30 dopo un lungo ritiro pre-partita ricordiamo la settimana passata a Coccaio con Iachini confermato in panchina e decise un gol di Vasquez domenica una partita fondamentale per il rosa può valere la salvezza tante le analogie con il 2013 fra tecnici, sostituti e ritorni adesso però non ci sono più scuse per salvarsi il Palermo è costretto a fare punteggio pieno e leggiamo dopo le prime indicazioni tattiche ci sono ballottaggi in difesa e a centro campo Sorrentino ha svolto lavoro differenziato terapie per la Zarre mentre Pezzella ha svolto un lavoro a parte programmato alcuni ballottaggi in difesa Travitiello e Struna col Campano che appare in vantaggio anche considerando le ultime prestazioni in campionato del giocatore sloveno e a centro campo Brugman e Maresca si giocano un posto in cabina di regia in bilico a centro campo anche la posizione di Iachio a insidiarlo per una maglia ceccioce a sinistra Pezzella se la gioca con Rispoli per un posto sull'esterno e Palermo-Bologna è una sfida anche di tanti heads tra questi un palermitano doc come Giacomo Tedesco ascoltiamolo nell'intervista realizzata per noi da Giovanni Mazzola Giacomo Tedesco il Palermo vive un momento difficile e domenica incontrerà il Bologna sono due squadre che tu conosci molto bene che partita ti aspetti? è una partita dura perché il Bologna viene da un momento l'ha dimostrato anche contro la Juventus costringendolo allo 0-0 ma giocando e non rinunciando a segnare si è approvato in tutti i modi mentre il Palermo viene da una situazione un po' difficile questi cinque gol spero che non pesino più di tanto perché col Bologna diventa una partita decisiva dove bisogna fare punti e mi auguro che possa ottenerli il Palermo Giacchini nel post partita contro la Roma ha detto che ha ritrovato un Palermo diverso da quello che aveva lasciato secondo te cosa servirà per portare in salvo questa squadra? sicuramente lui lo sa perché Bravo l'ha dimostrato nei due anni che ha fatto prima della promozione l'anno scorso un anno meraviglioso io dico che in poco tempo giustamente ha ritrovato degli uomini diversi perché il mercato di gennaio l'ha un po' stravolta però adesso c'è una settimana in più per conoscere di meglio per dimostrare che questa squadra è viva e che può lottare contro tutti e nella lunga corsa verso la salvezza secondo te alla fine il Palermo riuscirà a salvarsi? ce lo auguriamo tutti perché da tifoso palermitano e da palermitano mi auguro che il Palermo possa mantenere la Serie A perché il bene della città è mantenere la categoria per la società, per tutti e Iachini secondo me è l'uomo giusto che può fare salvare il Palermo In questa travagliata stagione ricca di cambi in panchina c'è stato coinvolto anche il tuo fratello Giovanni ci puoi spiegare cosa è successo veramente? perché prima da spalla per schielotto poi è passato allenatore adesso collaboratore cosa è successo? che è successo? che lui l'hanno chiamato e da palermitano secondo me era il più felice di tutti perché quando vieni chiamato da palermitano a dare una mano alla squadra alla città ai tifosi chiunque accetta perché il sogno di tutti i palermitani è quello però ci sono stati questi passaggi dove sicuramente mi auguro che lui rimanga tranquillo e possa dare un aiuto adesso a Messe Iachini nel contribuire a questa salvezza perché con la sua esperienza anche maturata a Malta sicuramente può dare una mano a Messe Iachini magari con un futuro ancora in rosa nero ma sicuramente perché lui l'ha dimostrato da calciatore spero che lo possa dimostrare anche da allenatore perché è uno che ne capisce è uno che ha sempre dato l'anima per il Palermo e continuerà a farlo non solo quest'anno mi auguro anche nei prossimi anni In questo momento difficile per il Palermo manca un giocatore chiave come Sorrentino secondo te quanto pesa la sua stenza e secondo te a fine stagione rinnoverato il suo contratto? E mi auguro che possa rinnovare perché nonostante l'età è uno maturo è uno che guida i compagni è uno che carica l'ha dimostrato salvando tante partite Sorrentino in questo momento è un'assenza pesante però mi auguro possa dare anche da fuori il suo supporto al giovane portiere come Alastra perché sicuramente lo farà perché serve anche non giocando serve la sua mano perché è fondamentale Un giocatore invece che ha sparso più in ombra nelle ultime partite è Vasquez vista la sua qualità quanto pesa la sua diciamo il suo poco contributo a livello tecnico sicuramente non si è espresso bene a Roma dove sicuramente da uno come lui ci si aspetta un po' di più perché quando vuole vince le partite aiutando tanti compagni nella finalizzazione del gioco Vasquez è fondamentale spero che possa ritrovare quella continuità che in alcune partite ha messo in campo e queste erano dunque le parole di Giacomo Tedesco doppio ez della sfida tra Bologna e Palermo che ricordiamo si giocherà domenica alle 12.30 allo stadio Renzo Barbera Tedesco che ha avuto anche parole d'affetto per il fratello Giovanni che da qualche settimana ricordiamo siede sulla panchina del Palermo prima come allenatore come tutor di Ghisermo Barroschelotto adesso è rimasto nello staff tecnico di Giuseppe Iachini dunque continua il legame tra il Palermo e Giovanni Tedesco un legame che è stato così salutato dal fratello Giacomo noi ora ritorniamo ai nostri quotidiani ci eravamo lasciati con la Gazzetta dello Sport passiamo ora al Corriere dello Sport che apre nell'edizione nazionale con le parole rilasciate da Maurizio Zamparini al resto del Carlino Gilardino non fai per noi il presidente del Palermo Amaro non è la piazza giusta per lui dunque una critica del presidente al gioco del Palermo riguardante ovviamente Gilardino è un uomo d'aria ma noi lì davanti ci arriviamo poco intanto gli ultra assicurano sostegno per la sfida di domenica al Barbera Zamparini che tra le altre cose chiede ai suoi ragazzi il coltello tra i denti contro il Bologna voglio vedere la mia squadra col coltello tra i denti anche a Marassi abbiamo perso di brutto ma la settimana dopo ne abbiamo dati 4 all'Udinese Iachini l'ho ritrovato carico speriamo possa riprendere in mano la squadra e tra l'altro anche un retroscena Donadoni l'avevo messo nel mirino quando ad ottobre pensavo di cambiare Iachini ma è arrivato prima il Bologna dunque sfida tra il Palermo e quello che sarebbe potuto essere il suo allenatore già a novembre poi ricordiamo come è andato a finire il Palermo che ha chiamato Ballardini il caos di Coccaio prima della partita contro il Verona e tutto il susseguirsi i tecnici fino ad arrivare a Giuseppe Iachini che domenica farà il suo ritorno al Barbera noi ora ci prendiamo un attimo di pausa restate qui con noi Passa a Team ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita negozi Team Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3 Barra G English Extend è un corso di lingua costruito sui principi dell'apprendimento naturale e sociale con la nostra piattaforma brevettata Language Extend puoi svolgere questa attività a casa tua dal vivo online ti aspettiamo per imparare insieme Ampia scelta di occhiali da vista e da sole lenti a contatto e accessori teleottica Carla venite a trovarci siamo a Cinisi in corso Umberto 98 e a Terrasini in via Perez 78 telefono 091 86 65 661 tutte le mattine dal lunedì al venerdì calcio e caffè la rassegna stampa gli approfondimenti e le esclusive di Stadionews24 collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera ilcalciogiovanile.com trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra come sempre da una squadra vincente Stadionews24 la nostra passione di fare notizie e rieccoci qui a parlare di Palermo-Bologna del prossimo incontro di campionato del Palermo prossimo incontro che rischia di non avere un protagonista attesissimo ovvero Franco Vasquez il trequartista italiano-argentino ha un problema agli adduttori ed è in dubbio per la partita del Renzo Barbera di domenica prossima come leggiamo dalle pagine regionali del corriere dello sport il Palermo dipende da lui però Vasquez è KO il fantasista ha problemi all'aduttore lo staff farà di tutto per recuperarlo per la sfida contro il Bologna c'è cauto-ottimismo all'interno del Palermo per un suo possibile recupero 35 sono le partite consecutive in cui Vasquez è sempre stato presente in casa negli ultimi due anni non ha mai saltato un incontro casaningo compresi quelli di Coppa Italia dunque Palermo che non può fare a meno del suo fantasista leggiamo anche l'alternativa più probabile è Traikovsky col suo posto dietro la punta ricordiamo ovviamente Vasquez è al limite e rischia un infortunio più serio dunque lo staff medico del Palermo sta ponderando se rischiare il suo utilizzo contro il Bologna o se tenerlo a riposo per una partita leggiamo sempre per quanto riguarda la possibile formazione del Palermo in rialzo le quotazioni di Tiago Cione che ieri il brasiliano è stato schierato nella linea a quattro con la difesa titolare una prova quella di un 4-3 1-2 per lo staff tecnico del Palermo che ha visto l'ex difensore del Modena schierato al centro insieme a Gonzales con Rispoli e Pezzella Terzini leggiamo anche nella giornata di ieri quanto accaduto a Goldaniga dopo il luto dopo la morte del padre ha ringraziato tutti per le condoglianze Goldaniga che ricordiamo ieri assente per permesso dall'allenamento tra l'altro Goldaniga infortunato recupererà tra almeno un paio di settimane quindi Goldaniga che non si è allenato ieri con la squadra così come non si è allenato col gruppo Sorrentino che ha sostenuto allenamento differenziato e la ZAR che prosegue le terapie ora noi passiamo dal Corriere dello Sport ai quotidiani locali passiamo al giornale di Sicilia che apre la sua pagina sportiva con quattro opinioni eccellenti sul momento negativo del Palermo quelle di quattro Ezzo ovvero Rino Foschi Giuseppe Sannino Filippo Maniero e Emanuele Filippini quattro domande poste ai protagonisti di questa intervista multipla Iachini l'uomo giusto per salvare il Palermo quanto hanno influito i cambi sulla panchina quali sono i punti di forza e i punti deboli del Palermo e se il mercato è stato all'altezza parere unanime soprattutto per quanto riguarda l'ultimo e l'ultima domanda leggiamo quella di Filippo Maniero la risposta mercato invernale figlio della confusione ora ci sono pochi cambi a disposizione Rino Foschi continua ad avere parole dell'oggio per Maurizio Zamparini contestare il patrono non serve a niente una tifoseria lontana però diventa un limite Giuseppe Sannino ex allenatore del Palermo condanna per così dire la scelta di cambiare continuamente allenatori cambi in panchina danno scosse illusorie la squadra di sicuro ne ha risentito sempre dalla stessa pagina del giornale di Sicilia leggiamo le parole di Maurizio Zamparini che ha atteso tra oggi e domani in città che corregge il tiro il presidente sulle presunte critiche Alberto Girardino già lette dalle pagine al Corriere dello Sport ma quando mai la reazione del patron rosa nero mi sembrano frasi esemplari per chiarezza e linearità si legge dalle colonne del giornale di Sicilia ovviamente frasi pro Girardino se qualcuno distorce il pensiero o ci specula alla mia età posso anche fregarmene solo una cattiva volontà di interpretazione può far credere ciò che non è fortunatamente ho davanti gli ultimi tre mesi da presidente del Palermo punto alla salvezza e passare la mano e anche oggi ho ricevuto possibili acquirenti dunque Zamparini sempre aperto alla possibilità di lasciare il Palermo in altre mani e poi infine un augurio a Girardino penso che prima della fine del campionato possa fare almeno altri quattro golle mi auguro che la nazionale pensi davvero a lui per un posto in vista dei prossimi europei dunque porte aperte al bomber del Palermo e leggiamo sempre dal giornale di Sicilia per quanto riguarda la sfida di domenica Saputo presidente del Bologna sta facendo grandi il rosso blu e a Montelepre domenica è derby perché ricordiamo Gioi Saputo presidente del Bologna canadese e di origini siciliane famiglia nativa di Montelepre dunque nel paese dell'entroterra palermitano ci sarà sicuramente questo derby di domenica alle 12.30 tra un concittadino illustre e la squadra ovviamente del capoluogo di provincia del Palermo che resta comunque la squadra tra le più seguite la più seguita all'interno del circondario palermitano noi chiudiamo oggi come sempre con l'edizione palermitana della Repubblica che apre con quelli che sono stati i cambi in panchina delle due squadre quello di Ghiachini è stato un esonero che non è servito a nulla tant'è vero che il Palermo è nuovamente a tre punti dalla zona retrocessione quello per il Bologna invece è stato un cambio fondamentale con Donadoni la svolta per il rilancio della squadra Lez del Parma ha preso i felsini i ultimi adesso li ha portati al nono posto in classifica con un sogno quello di poter raggiungere il Milan e sperare anche grazie agli accoppiamenti della Coppa Italia ad un posto in Europa tra l'altro ha introdotto nuove metodologie di allenamento allenamenti in orari diversi unica concezione alla tecnologia il drone che sorvole il campo dunque una possibilità per guardare dall'alto gli allenamenti poi leggiamo di nuovo le parole di Zamparini il nostro gioco non fa per Girardino volevo Donadoni ma il Bologna mi ha soffiato l'idea adesso il Palermo rischia la Serie B dunque anche la preoccupazione del patron rosa-nero per il finale di questa stagione Palermo che affronta questo campionato con l'acqua alla gola ricordiamo tre punti dalla zona retrocessione Palermo che domenica contro il Bologna si gioca una chance importante per mantenere la categoria per oggi con le parole di Zamparini è tutto l'appuntamento è sempre qui sempre nella giornata di domani sempre allo stesso orario vi auguro una buona giornata a Tutte le mattine dal lunedì al venerdì calcio e caffè La rassegna stampa, gli approfondimenti e le esclusive di Stadionews24 Collegamenti in diretta da Bocca di Falco per le conferenze stampa Tutte le curiosità e gli approfondimenti sulla formazione primavera Ilcalciogiovanile.com, trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile palermitano Da oltre dieci anni portiamo le notizie a casa vostra Come sempre, da una squadra vincente Stadionews24, la nostra passione di fare notizie